buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo quarto video del gigione per quanto riguarda le schedine le bollettine per le partite che si svolgeranno nel weekend in questo caso il weekend lungo perché c'è anche una partita lunedì per il campionato tedesco ma prima prima vi ricordo sempre l'appuntamento lunedì perché poi dopo mi dice mi dite non ce l'avevi detto eccetera ve lo dico lunedì sera tra le 21 e 30 alle 22 sarà nuovamente in diretta streaming fino a quando c'è gente perché l'ultima volta ho battuto il record quasi cinque ore e mezza di diretta streaming quindi io ci sono se qualcuno vuol passare che ci facciamo una chiacchierata eccetera mi fate domande come abbiamo fatto sempre io sono lì quindi da lunedì 23 dopo le 21 e 30 sarò in streaming diretta e parleremo un po' di vari argomenti che tanto saltano sempre fuori detto questo andiamo a vedere le partite del campionato tedesco di sabato domenica e lunedì quindi partiamo subito con Erta Berlino Paderborn 1 Friburgo Ausburg 1x Bayern Monaco Colonia 1 Bayern Leverkusen Union Berlino 1 Werder Bremen Lipsia partite di domenica Borussia Mönchengblabach Düsseldorf si spera uno ma dopo le quattro pere che hanno preso del weekend contro il Wolfsburger non lo so spero uno comunque che si rifacciano anche perché sennò mi sa che i tifosi li massacrano entra Francoforte Borussia Dortmund x2 veniamo alla schedina no manca la partita di lunedì Bosburg Offenheim 1x che era quella di lunedì me la stavo dimenticando perché poi dopo loro rigiocano al venerdì non hanno l'infrasettimanale veniamo invece alla schedina alternativa Erta Berlino Paderborn over 2 e mezzo Friburgo Ausburg gol Bayern Monaco Colonia mi arrischio un over 3 e mezzo perché l'over 2 e mezzo era pagato veramente poco quindi diamo per scontato che il Bayern questa partita quattro gol vengano fuori vedremo Bayer Leverkusen Union Berlino over 2 e mezzo Werder Bremen Lipsia gol Borussia Mönchengblabach Düsseldorf over 2 e mezzo Eintra Francoforte Borussia Dortmund gol e Bonsburg Offenheim mi arrischio un gol anche se l'ultima volta non è andata proprio benissimo con l'offenheim però se non sbaglio vado a memoria veniamo alle bollettine del Gigione scelto naturalmente le solite quattro partite mi fanno abbastanza libidine vedremo poi cosa succederà Erta Berlino Paderborn 1 Friburgo Ausburg 1 Werder Bremen Lipsia 2 Francoforte Borussia Dortmund 2 questa è la bollettina con le fisse con 5 euro se ne vincerebbero 47,57 seconda bollettina Erta Berlino Paderborn 1 Friburgo Ausburg x1x o x1 che dir si voglia Werder Bremen Lipsia x2 Francoforte Borussia Dortmund x2 con 5 euro se ne vincerebbero comunque 15 e 35 che non è che fanno schifo terza bollettina Erta Berlino Paderborn 1 x più over 1 e mezzo Friburgo Ausburg 1 x più over 1 e mezzo Werder Bremen Lipsia x2 più over 1 e mezzo Eintra Francoforte Borussia Dortmund x2 più over 1 e mezzo con 5 euro se ne vincerebbero 19 poi vedete voi se volete alzare a over 2 e mezzo se volete togliere una doppia cioè lì poi ve le giostrate voi come volete come ve lo dico sempre potete anche prendere una partita da una bolletta una da un'altra una da un'altra una da un'altra naturalmente quattro partite diverse crearvi la vostra bollettina sul misura non sto a farvi io vi do degli esempi poi dopo vedete voi quarta bollettina Erta Berlino Paderborn gol ospite sì Friburgo Ausburg gol ospite sì Werder Bremen Lipsia gol casa sì Eintra Francoforte Borussia Dortmund gol casa sì paga pochissimo con 5 euro se ne portano a casa 13,72 quindi questa è una bollettina possibilissima e magari se volete estrapolate un paio di partite le mettete insieme ad altre due create quella che vi sconquifera di più quinta bollettina questa meno folle delle altre anzi è molto molto probabile Erta Berlino Paderborn gol più over Friburgo Ausburg gol più over Werder Bremen Lipsia gol più over Francoforte Aintra Francoforte Borussia Dortmund gol più over con 5 euro se ne vincono 44,43 penso che sia la quota più bassa che ho mai visto per quanto riguarda un gol più over ci può stare ci può stare veramente portarsi a casa 44 euro non è che fanno schifo infine la sesta bollettina che è un po' difficile per quanto riguarda le fisse ma per il gol più over ci può stare benissimo quindi Erta Berlino Paderborn 1 più gol più over Friburgo Ausburg 1 più gol più over Werder Bremen Lipsia 2 più gol più over e Aintra Francoforte Borussia Dortmund 2 più gol più over con 2 euro e bastano e avanzano se ne portano a casa 141,78 il bidine con 5 euro se proprio siete invincite e vi piace questa bolletta andreste a vincerne 354,45 detto questo io vi saluto vi ringrazio e mi appresto a fare il campionato francese ciao